Oggi LT4 Borg si trova a Molano, che è considerato uno dei borghi più belli d'Italia ed è caratteristico per la sua struttura, che è una struttura stile presepe, che poi vedrete nelle riprese. Ci vediamo adesso dal presepe di Vende per le riprese, ma nello stesso tempo è famoso da un punto di vista estivo per la festa della bandiera. Ecco, ci stiamo addendrando dentro il presepe di Vende, con le varie bottiglie. Vedete, c'è un sacco di gioco. Ci addendriamo dentro il presepe. Come dicevo prima, guardate, non semiglia un presepe. Ma è così. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.